Il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva la risoluzione per gli aiuti umanitari a Gaza ma senza la tregua. Astenuti i russi e i Stati Uniti, deluso Guterres, l'unica via è un cessate il fuoco. Approvata dal Senato la manovra economica che ora passa all'esame della Camera per il via libera definitivo, la legge di bilancio vale circa 24 miliardi, il provvedimento più importante è la proroga per il 2024 del taglio del cuneo fiscale. Oggi sciopero del terziario in tutta Italia, mobilitate oltre 5 milioni di lavoratori. La protesta è stata indetta per chiedere il rinnovo dei contratti collettivi di categoria, quasi tutti scaduti nel 2019. Un italiano su 5, ovvero il 20% della popolazione, ha deciso di trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le festività natalizie. Il 75% dei vacanzieri preferisce località del nostro paese. La spesa media sarà di 604 euro a persona. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. Apriamo il giornale allora con il Medio Oriente. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione per gli aiuti umanitari a Gaza, ma senza la tregua. Proseguono intanto i bombardamenti nella striscia. Sentiamo Fabio Bolzetta. Pause e corridoi umanitari urgenti ed estesi in tutta la striscia di Gaza per un numero sufficiente di giorni per consentire un accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli. Lo chiede la risoluzione approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Gaza dopo giorni di negoziati. Astenuti la Russia e gli Stati Uniti, non la richiesta di un cessato del fuoco immediato, ma un'attenzione su quando e come portare maggiori aiuti a Gaza. Sono state superate così le rigidità dei giorni scorsi. La risposta di Israele è che continuerà la guerra fino al rilascio di tutti i rapiti e alla eliminazione di Hamas nella striscia di Gaza, ha dichiarato il ministro degli esteri israeliano, Eli Cohen, pur esprimendo apprezzamento per la risoluzione. La gente non riesce a trovare cibo, non c'è grano, né acqua, né carburante, niente. Così, Daraf ha colpita da un bombardamento israeliano che ha distrutto un edificio e ucciso tre palestinesi. E nella striscia sale l'allarme carestia. Secondo la ONG Oxfam, il 90% della popolazione sopravvissuta agli attacchi potrebbe morire di fame. Per le Nazioni Unite è a rischio carestia, più di mezzo milione di persone a Gaza, un quarto della popolazione. Secondo la CNN, Israele ha sganciato centinaia di bombe da 900 chili, in grado di colpire ad oltre 300 metri di distanza. Da Tel Aviv anche obiettivi di Hezbollah nel Libano. Due le vittime, 121 dal 7 ottobre scorso. La guerra tra Israele e Hamas ha un impatto devastante sulla popolazione civile. La nostra corrispondente Alessandra Bosetti ci racconta la storia di Marseille, una mamma cristiana scappata da Gaza che ora vive a Betlemme. Vediamo. La notte di Betlemme è senza luce a pochi giorni dal Natale. Non ci sono decorazioni per le strade, né il grande abete colorato, né la piazza della Natività. Non ci saranno neppure tambure e cornamuse ad accogliere il patriarca alla vigilia di Natale. Sfileranno accanto a lui pochi scout in silenzio. Tutta la terra santa soffre per la guerra, un doppio dramma per chi come Marseille ha gran parte della sua famiglia Gaza. Nel 2019 è scappata dalla striscia con le sue tre figlie, ma suo marito Youssef non le ha mai potute raggiungere. Youssef è ora rifugiato in una parrocchia ortodossa, mentre il fratello di Marseille in quella latina di Gaza City. Siamo qui, ma il nostro cuore è a Gaza. Quando sabato scorso hanno attaccato la parrocchia latina, non abbiamo avuto notizie per quattro ore dei nostri cari lì. Le mie figlie erano paralizzate dalla paura. Il Natale significa speranza e noi l'abbiamo persa. Sono già morti diversi i miei parenti a Gaza. Ho paura di perdere anche tutti gli altri. Stanno morendo a poco a poco. Mia cognata è stata colpita dalla scheggia di un razzo alla gamba che gli ha attraversato anche l'altra. Non ha potuto raggiungere nessun ospedale e rischia di perdere gli arti inferiori. Non riesco a esprimere quello che ho nel cuore. È tutto folle. Chiedo solo che sia fermata questa guerra, che qualcuno protegga i civili innocenti. Abbiamo pregato tanto, ma non basta. Altra area di conflitto all'Ucraina, attaccate da droni russi la notte scorsa. Diverse regioni del paese, tra cui il distretto di Odessa e di Kiev, dove ci sono stati anche dei feriti. Vito Dettore, vediamo. La guerra in Ucraina non è finita. La scorsa notte l'esercito russo ha sferrato un attacco con droni su quattro regioni. Kiev è stata la più colpita. 667 giorni di guerra. Le sirene antimissilistiche a Kiev non hanno mai smesso di suonare. Non c'è stato un giorno di tregua, neanche durante le festività di Pasqua e di Natale. La notte scorsa le sirene hanno iniziato a suonare alle 23.05, alle 23.31. I primi bagliori provenienti dalla zona sud del centro di Kiev erano i droni che esplodevano mentre colpivano abitazioni civili. Poco più di 20 minuti per correre nei rifugi. Fortunatamente questa volta non ci sono state vittime. Un uomo è rimasto ferito dalle schegge di vetro di una finestra esplosa. I droni che hanno colpito questo edificio hanno lesionato i muri portanti del palazzo tra il 25esimo e il 26esimo piano. Tra i cittadini si discute ancora della proposta che sarà esaminata nei prossimi giorni dal Parlamento. Un nuovo reclutamento, questa volta di cittadini ucraini residenti all'estero. Si tratterebbe di circa 500.000 nuove reclute. L'opinione pubblica è divisa. La nostra economia non esiste più, è distrutta, dice questa donna. Arruolare chi è all'estero per lavoro sarebbe solo un autogol. Il ministro degli esteri Antonio Tajani dopo l'incontro a Tirana con il premier albanese Edirama ha ribadito il forte impegno dell'Italia per sostenere l'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea in tempi più rapidi possibili prima del 2030. Via Libera del Senato alla legge di bilancio che ora passa all'esame della Camera per l'ok definitivo. Nel pomeriggio però ci sono stati scontri davanti a Montecitorio. Vediamo perché con Augusto Cantelmi. Favorevoli 112, contrari 76, astenuti 3. Il Senato approva. Via Libera del Senato alla fiducia sul maxi emendamento sulla manovra con 112 voti favorevoli, 76 no e 3 astenuti. La settimana prossima si passa alla Camera per l'ultimo atto il 29 dicembre. Una legge di bilancio blindata di 24 miliardi con la maggioranza che è intervenuta soltanto con alcuni emendamenti tra i quali il no alla proroga del superbonus e lo stop al taglio delle pensioni di anzianità per i medici mentre alle opposizioni concesso un fondo di 40 milioni contro la violenza sulle donne. Ma il clima politico resta avvelenato dopo le tensioni legate alla giornata di ieri con il no alla Camera alla ratifica del Messi in un incrocio pericoloso di voti opposti tra maggioranze e opposizioni e con il ministro dell'economia Giorgetti che sperava invece nell'approvazione del meccanismo salva stati. Attenzione, attenzione, economia e finanze. Avevo l'interesse che il messo fosse approvato per motivazioni di tipo economico finanziario. Intanto momenti di tensione davanti a Montecitorio con scontri tra polizie e studenti di alcuni licei della capitale occupati che protestavano contro il governo Meloni per via delle politiche studentesche. Il corteo non era autorizzato e gli studenti sono stati dispersi dalle forze dell'ordine. Sciopero del terziario oggi in tutta Italia ha mobilitato oltre 5 milioni di lavoratori che chiedono il rinnovo dei contratti collettivi di categoria. Leonardo Possati. A pochi giorni dalla festa di Natale, quella di oggi per molti lavoratori è stata una giornata di protesta. Sono quanti hanno un impiego nel terzo settore e chiedono il rinnovo di un contratto scaduto da oltre tre anni, in alcuni casi anche sei. Questo livello di precarietà che va cambiato e il governo dovrebbe fare una politica che rilancia il settore della cultura, del turismo. Il governo dovrebbe mettersi nella parte di chi lavora e non arriva alla fine del mese. Questo è il tema che non sta succedendo. A Roma il corteo dei lavoratori del commercio e del turismo ha visto la partecipazione di 4.000 persone in piazza Sante Postoli, alta l'affluenza anche a Milano, dove da Largo Cairoli ad Arco della Pace ha sfilato un lungo percorso composto da migliaia di persone provenienti da ogni parte dell'Italia. Loro lo chiamano contratto innovativo. Un contratto innovativo per loro, alle loro condizioni sarebbe per diminuire drasticamente la quattordicesima, i permessi retribuiti e gli scatti di anzianità. Chiediamo il rinnovo del contratto e l'aumento dello stipendio, perché non arriviamo più a fine mese. Da noi oggi una partecipazione molto molto buona, credo che sia lo sciopero più partecipato in feltrinelli degli ultimi vent'anni. Secondo quanto riferiscono i sindacati, lo sciopero ha registrato un'affluenza media del 70% nei diversi settori del terziario. L'assassinio di Vanessa Ballan, l'autopsia effettuata sul corpo della giovane, rivela che è stata uccisa con otto coltellate insieme al feto che portava in grembo il servizio di Beatrice Bossi. Otto coltellate di cui due ai polmoni e una al cuore. L'autopsia sul corpo di Vanessa svela anche la violenza scatenata dal suo aggressore, che prima di ucciderla l'ha anche picchiata, lasciandole segni sul volto e sulle mani. L'efferratezza è stata tale che il decesso, dicono i medici, è sopraggiunto in pochi attimi. La provincia di Treviso è ancora sotto shock. Ieri le strade di Spineda si sono illuminate per ricordare la 26enne e il bambino che portava in grembo. Questa sera al Duomo di Castelfranco Veneto si prega per loro. La procura intanto aggiunge indizi al faldone che considera Bouchard Fandai l'autore del delitto. Pochi frame di un video si sono aggiunti oggi ad altri numerosi indizi di colpevolezza. Sono immagini registrate la mattina dell'omicidio dalle telecamere di sicurezza dei vicini di casa della ragazza. Nella parte alta dello schermo si vede un uomo scavalcare la recinzione del giardino con un borsone. La corporatura è compatibile con quella del presunto assassino e la sacca sembra proprio quella sequestrata dai carabinieri in casa del 41enne il giorno dell'arresto. Elementi che si aggiungono ad altre prove granitiche, dice la procura, come il ritrovamento sul luogo del delitto di un martello su cui è inciso il nome dell'impresa edile di cui il kossovaro è titolare. O anche la corrispondenza tra il coltello utilizzato per l'omicidio e quelli della stessa serie ritrovati in casa dell'uomo. Lame da 20 centimetri, esattamente come quella che ha ucciso Vanessa e il suo bambino. Volevo uccidere l'ex marito e sarebbe stata la mandante dell'attentato in cui l'uomo, un ufficiale della Guardia di Finanza, è rimasto illeso dopo l'esplosione della sua auto in una bomba con queste accuse. Un'avvocatessa di 38 anni della provincia di Chieti è indagata per concorso in tentato omicidio e detenzione porto in luogo pubblico di esplosivo. L'agguato incendiario è avvenuto lo scorso 21 marzo a Bacoli, in Campania. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha incontrato a Caivano il commissario straordinario di governo ciciliano e poi ha fatto visita al parroco Don Maurizio Patriciello. Ce ne parla Luigi Ferraiolo. Probabilmente l'esercito farà opera di vigilanza continua a Caivano, in particolare nel Parco Verde. Lo ha anticipato il ministro della Difesa, Crosetto, incontrando Don Maurizio Patriciello e visitando l'ex centro sportivo Delfinia, dove stanno lavorando i reparti del genio militare. Questa mattina abbiamo avuto qua in parrocchia, al Parco Verde in Caivano, la visita del ministro Crosetto che si inserisce queste visite che stanno continuando dal 31 di agosto, da quando il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accogliendo la mia richiesta, venne qua in parrocchia a prendere visione dei problemi che affliggono il nostro quartiere e anche la città di Caivano e promise di fare delle cose, di essere presente e sta mantenendo la parola. Crosetto ha immaginato un impiego degli uomini e delle forze armate per tutto ciò che può servire per portare legalità al Parco Verde, dal pattugliamento delle strade a quello delle scuole al supporto logistico. Si può guardare il futuro con più ottimismo, avevamo un centro sportivo completamente vandalizzato, è stato ripristinato per la primavera dell'anno prossimo, ci è stato promesso che ritornerà in funzione, questa è una cosa molto bella. Il ministro ha anche spiegato che l'esercito a Caivano deve sperimentare un modello positivo per le altre zone del paese. Al termine della sua visita ha incontrato il comando carabinieri provinciale. 39 tonnellate di prodotti tipici natalizi sono stati sequestrati in tutta Italia dai carabinieri del NAS. Gli accertamenti estesi a tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio hanno consentito di ispezionare circa mille strutture, rilevando irregolarità nel 38% delle imprese controllate, portando alla contestazione di oltre 585 violazioni penali ed amministrative. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha inviato una circolare a prefetture e questure in cui chiede di pianificare i doni dispositivi di sicurezza in vista dei festeggiamenti di capodanno. Si tratta infatti di eventi su cui tenere alta l'attenzione sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, considerando che l'attuale contesto politico internazionale è connotato dall'acquirsi di tensioni che hanno un elevato rischio di azioni terroristiche ma anche di ecoattivisti. In Nicaragua il regime di Daniel Ortega, il presidente, si accanisce sempre più contro i cristiani dopo le processioni della Quaresima. Sono stati vietati anche i presepi viventi che venivano organizzati per il Natale. Le sentiamo Maurizio Dischino. Un altro duro colpo alla Chiesa Cattolica in Nicaragua. Quest'anno vietate le posadas, i tradizionali presepi viventi animati dai bambini dal 15 al 23 dicembre per le strade del paese centroamericano. Il regime di Managua, guidato dall'ex rivoluzionario sandinista Daniel Ortega e dalla moglie vicepresidente Rosario Murillo Zambrana, ha sguinzagliato la polizia ad andare nelle parrocchie per intimare i parroci a svolgere presepi viventi solo all'interno delle strutture, non all'aperto. Il 24 novembre la conferenza episcopale del Nicaragua, con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, aveva esortato i fedeli a vivere l'avvento anche con le espressioni della pietà popolare, tra cui le posadas, i presepi viventi per le strade delle città. La Chiesa Cattolica è nel mirino del regime di Managua dall'aprile 2018, cioè da quando ha cominciato a denunciare massacri di studenti perpetrati da militari e paramilitari. L'avvocato e ricercatrice Marta Molina, nel rapporto Nicaragua, una chiesa perseguitata, ha documentato 667 casi di profanazioni, sacrileggi, rapine e attentati contro la Chiesa Cattolica tra il 20 aprile 2018 e il 30 agosto 2023. Due vescovi cattolici arrestati quest'anno. A febbraio, Monsignore Rolando Alvarez, vescovo di Matagalpa, condannato a 26 anni di carcere, con le accuse di cospirazione e tradimento. L'altro ieri, Monsignore Isidoro Mora Ortega, vescovo di Siona. Ancora non sono state accertate le accuse contro di lui. All'inizio di marzo, inoltre, il Nicaragua ha sospeso i rapporti diplomatici con la Santa Sede. Clima anomalo in questi giorni, caratterizzato da temperature in generale incremento, dovute principalmente alla presenza di un anticiclone originato in parte da correnti africane. Aria insolitamente calda che si stabilizzerà soprattutto alle quote medio-alte. Il nord invece è stato investito da forti raffiche di vento che nel torinese hanno provocato vari danni in tutto il territorio con decine di interventi. Al sud e sulle isole maggiori, le temperature potrebbero raggiungere picchi fino ai 18 gradi. Al centro toccheranno i 13. Sono 60.000 nuovi casi di Covid registrati in Italia, secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. I dati segnalano che i contagiati sono 103 ogni 100.000 abitanti, il 10% in più rispetto a sette giorni fa, quando erano 94 ogni 100.000. Tempo di vacanze natalizie. Un italiano su 5, ovvero il 20% della popolazione, ha deciso di trascorrere almeno un giorno fuori casa. Ci dice tutto Alessandra Camarca. Al via l'esodo di Natale. Oltre 6 milioni e mezzo di persone si metteranno in viaggio sulle strade e sulle autostrade durante le festività natalizie, con una crescita del traffico di circa il 20% su tutto il territorio nazionale. Tra le grandi arterie e le più trafficate, a ridosso delle festività, saranno a Roma il grande raccordo anulare e a Milano la Superstrada 36 del Lago di Coma e dello Spluga. Negli altri giorni, rende noto l'ANAS, invece sono previste diminuzioni di traffico, tra il 20 e il 40%, almeno fino al 30 dicembre. La 2, l'autostrada del Mediterraneo, sarà molto trafficata per il rientro e la ripartenza dei fuorisede con una crescita, nell'arco di questa settimana, dal 50 al 70%, fino a un raddoppio del traffico oggi e domani. Veri e propri giorni di esodo, con traffici paragonabili alle punte estive. La crescita riprenderà sabato 30 dicembre, con un aumento del traffico che culminerà nelle giornate di sabato 6 e domenica 7. Domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre, è prevista la sospensione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. E' ora di cena e vi portiamo a Milano, alla cena itinerante per i senza tetto organizzata dal progetto Arca. Vediamo, Raffaella Frollone. Una tavola imbandita all'aperto, addobbata di rosso, con i pacchi luminosi, il panettone gigante. Non manca niente alla cena itinerante di progetto Arca, che con la sua cucina mobile ha preparato il Natale per chi non ha una casa. Siamo a Milano, a pochi passi da Piazza San Babila. Sono in strada per lo più soli, sono giorni tristi, per cui questo calore che cerchiamo di dare con i volontari è molto importante. Poi ovviamente abbiamo un cenone di Natale anticipato, con antipasti, primi, secondi, dolci, ma la cosa più importante è la vicinanza. C'è il menù della tradizione, ci sono i regali e c'è la benedizione dell'Arcivescovo della città. E fondi, Signore, la Tua benedizione, perché la carità non sia il gesto di un momento, ma uno stile di vita. Una festa resa possibile solo dall'impegno dei volontari. Loro vogliono molto parlare, scambiare proprio quattro parole con noi, forse anche per sfogarsi, perché comunque durante il giorno loro sono proprio invisibili. Per loro trovarsi qui con qualcuno che, ma non che gli dà la magia, che gli dà attenzione, che gli dà supporto, che gli dà amicizia, è per loro una cosa fondamentale. E forse è proprio questo, il dono più prezioso. Diciamo che a causa del Covid ho perso tutto, ho perso il lavoro, ho perso i genitori. Ormai siamo gli aglioni di Natale, è un bel regalo per noi. Concludiamo qui questa edizione del TG2000. Vi ricordo, dopo di noi, alle 20.55, il divertente film Matilda Seimitica, una dolce bambina dotata di un'intelligenza eccezionale. Buona visione e buona serata a tutti voi.